vediamo come si può creare salvare pubblicare facilmente una rubrica di valutazione online lo faremo con uno strumento che si chiama ruby star ruby star è disponibile in inglese e in spagnolo ma nessuno ci vieta di aggiungere i nostri contenuti anche in italiano digitando ruby star nella barra di ricerca google questo è il primo risultato che ci viene restituito il sito è ruby star for teachers punto org quindi clicco verrò reindirizzato alla home di ruby star per registrarci ci basterà cliccare qua su register ci verrà chiesto di inserire un titolo di inserire l'iniziale del nostro nome il nostro cognome il codice di avviamento postale in questo caso sarà quello internazionale quindi questi 59 che vedete qua a destra creare una password confermarla e quindi inserire la nostra email adesso io però effettuerò il login perché ho già un account su ruby star quindi vado a inserire i dati e vengo rindirizzato al mio account per creare le nostre rubriche dobbiamo cliccare su create rubric ci verranno quindi proposte diverse tipologie di rubriche che possiamo creare come poi vedremo sulla base della tipologia di rubrica del tipo di rubrica che abbiamo scelto ci verranno proposti anche relative dimensioni e descrittori utili per la nostra valutazione possiamo per esempio creare progetti orali prodotti multimedia in questo caso artefatti digitali progetti di scienze di matematica eccetera eccetera insomma abbiamo a disposizione qualsiasi tipo di rubrica noi vogliamo creare adesso a puro titolo esemplificativo proviamo a cliccare su prodotti making a brochure in sede di descrizione mi verrà chiesto di dare un nome alla mia brochure quindi inserirò dei metadati che mi permetteranno poi di trovarla più facilmente nel web in questo caso sarà una semplice prova possiamo poi scegliere se creare una rubrica temporanea che quindi durerà solo una settimana nel senso che sarà presente solo per sette giorni negli archivi di ruby star oppure posso creare una rubrica permanente che quindi sarà sempre disponibile online possiamo dunque iniziare a riempire la nostra griglia allora come vedete abbiamo qui nella colonna di sinistra le dimensioni cioè gli aspetti che noi vogliamo valutare abbiamo qua in alto una scala dei valori che una scala qualitativa che ci servirà per collocare la prestazione dei nostri studenti su un dato livello su un determinato livello e qua invece abbiamo lo spazio per scrivere i nostri indicatori cioè i descrittori delle competenze che avranno raggiunto i nostri studenti noi a questo punto possiamo fare due cose possiamo o scegliere dei modelli già preparati quindi su questo menu a tendina io non dovrò far altro che scegliere la dimensione che voglio valutare tra quelle che mi vengono proposte e una volta scelta ruby star mi proporrà anche i relativi descrittori ovviamente è tutto in inglese quindi se io voglio riutilizzare questi descrittori e questa dimensione dovrò tradurre il tutto in italiano ma posso anche semplicemente aggiungere i miei contenuti quindi vado a cancellare questi descrittori e vado anche a inserire la mia dimensione semplicemente scrivendola qua in questo spazio vuoto adesso inseriamo delle dimensioni a puro titolo esemplificativo le dimensioni sono gli aspetti che vogliamo valutare questo caso compaiono già in default perché avevo fatto delle altre prove posso poi modificare anche i livelli della scala qualitativa qua in alto potrei scrivere per esempio dei giudizi sufficiente distinto ottimo oppure posso scrivere semplicemente delle lettere questo caso di c b e a che quindi sarà il livello più avanzato bene una volta che ho inserito le dimensioni gli aspetti da valutare una volta che ho preparato anche la scala di qualità con i livelli su cui collocare la prestazione dovrò solamente aggiungere i vari descrittori delle prestazioni in questo caso non li aggiungo perché questo è un semplice esempio quindi andiamo direttamente a vedere come si pubblica la nostra rubrica ovviamente non dovete compilare tutta la griglia perché rubistar andrà a pubblicare solo quella porzione che noi abbiamo deciso di compilare clicchiamo quindi su submit possiamo ancora modificare la nostra rubrica se vogliamo ed ecco qui la rubrica che noi abbiamo compilato i descrittori non compaiono semplicemente perché non li abbiamo scritti a questo punto possiamo o stamparla e scaricarla in questo caso però la nostra rubrica non verrà salvata su web oppure possiamo renderla disponibile online cliccando qua su make available online quindi clicco la nostra rubrica è stata salvata e anche un numero identificativo quindi la nostra rubrica sarà sempre disponibile nella nostra nel nostro account che sarà teacher home come vedete ecco qui la mia rubrica che io da qui posso rivedere posso anche modificare posso cancellare o posso duplicare